Buongiorno a tutti da lascellanunica.com Oggi vado a presentare un nuovo gioco di prestigio con le carte in vendita naturalmente al nostro store Vi lascerò il link in descrizione e a fini video per andarlo ad acquistare se vi piace e se siete interessati Il Card Toon 2 Dunque un gioco molto simpatico di ritrovamento con le carte molto particolare In effetti la carta scelta del spettatore sarà ritrovata non dal mago stesso ma da un'animazione disegnata sul retro delle carte Dunque da quest'altra parte del mazzo vi sono tutte le 52 carte belle in ordine per voi per essere ritrovate velocemente dal mago E si inizia come al solito chiedendo a uno spettatore una carta qualsiasi del mazzo Basta che la dica Dunque andiamo a simulare una scelta casuale attraverso quest'altro mazzo Dunque poniamo che il nostro spettatore dica il K di quadri Dunque eccolo qua Andiamo a ritrovare il K di quadri all'interno del nostro mazzo Eccolo qui Abbiamo il K di quadri che mettiamo un attimino in evidenza Dunque questa carta verrà lasciata qua sul tavolo E si proseguirà con un semplice schiacco di dita Perché andremo a chiedere al nostro mago Questo qua proprio quello disegnato sul retro della carta Quale carta ha scelto lo spettatore Lo sa anche lui noi la vediamo ma lui no Adesso andrà a trovarla ma in maniera veramente spettacolare Ora vi faccio vedere Basta prendere il mazzo in questa maniera Un attimo mi lo metto a fuoco per bene Farlo scorrere in quest'altra maniera E tacchette prende vita una piccola simpatica animazione In cui il nostro mago con le carte in mano Eccolo là Si infila abilmente all'interno del cannone Accende la miccia Lancia le carte per aria Viene sparato Perde il cappello anche Viene sparato verso le carte Verso il muro Ne afferra una Sbatte la testa Ma riesce comunque ad atterrare in piedi E la carta pescata al volo Tra tutte quelle del mazzo Lanzate per aria E' proprio Il cappa Di quadri Tacchette Eccolo qua Effetto veramente particolare Bellissimo Consigliato per tutti i grandi e piccini Card Toon 2 In vendita Sullasciolamanica.com Questo è tutto Vi ringrazio Vi saluto E come al solito Alla prossima